Allora, buonasera. Anche stasera ci troviamo a prendere una testimonianza dal nostro cliente per quanto riguarda Lico Pharma. Stasera con noi c'è Filippo dell'associazione La Grintosa, è un'associazione di caccia, abbiamo detto caccia al cinghiale. Con Filippo, che è il presidente della Grintosa, abbiamo fatto ad agosto, se non sbaglio, una nostra presentazione. E proprio in quella serata Filippo ha deciso di comprare il nostro Lico Pharma. Ora, Filippo, io mi trovo a chiederti questo. Intanto perché hai deciso di comprare l'Lico Pharma? Che cosa avevi? Che cos'è che ti disturbava? Allora, io ho deciso di avvistare l'Lico Pharma perché avevo un forte dolore alla schiena, a continui, al ginocchio e migraia. Che cosa avevo? E per ovviare a questo facevo molto abuso di farmaci come abbastanza potenti. Quindi diciamo antinfiammatori, antitlorifici. Antitlorifici, antitlorifici e antitlorifici. E sinceramente sono già da quattro mesi che ho acquistato questo prodotto e mi trovo veramente bene. E spiego come. Vado a dormire con un dolore 10, ma di schiena, per dire un a caso, e mi sveglio la mattina con livello 3. Senza aver assunto farmaci quanti dolori. Sia io che la mia signora. Quindi possiamo dire che l'Lico Pharma realmente fa qualcosa. Perché noi quando lo presentiamo diciamo sembra un po' fantascienza. Ma oggi c'è proprio il Ministero della Salute che dice che questo è un reale farmaco. Quindi la tua testimonianza ci sta a dire che realmente... La mia testimonianza è proprio reale. Dico la verità perché l'ho provato con le mie dolori. Perciò non posso dire altro che bene fino adesso. Benissimo. Allora ringraziamo Filippo e ci accendiamo a fare un'altra serata. Quindi sicuramente ci saranno altre persone che saranno interessate al nostro Ecoparma. Grazie Filippo. Grazie.